Ho perso il lavoro e non sapevo più come vivere, così si sarebbe giustificato un aretino affetto da distrofia muscolare finito in manette per spaccio. L'uomo, un quarantenne incensurato, è stato sorpreso nell'ambito dei servizi antidroga svolti dalla squadra mobile della questura di Arezzo con quasi 40 grammi di cocaina. Gli agenti lo hanno fermato a Capolona a bordo della propria auto nella quale aveva nascosto lo stupefacente. A carico del quarantenne, nessun precedente penale ai poliziotti avrebbe detto di aver perso il lavoro due anni fa e di non riuscire a trovarne un altro anche a causa dell'aggravarsi della sua malattia sempre più invalidante, da qui la decisione di mettersi a spacciare per vivere. La cocaina trovata dentro l'auto in parte era già suddivisa in dosi, pronta quindi per essere ceduta. Questa mattina il quarantenne è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto. Vista l'incompatibilità con il regime carcerario, l'uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari.